Ciao, sono Anna Falchi, sono un'istruttrice di funzionale, quindi lavoro già in una palestra, lavoro anche come consulente e oltretutto sto studiando per formarmi anche a livello universitario, quindi per prendere una laurea per scienze motorie. Ho conosciuto la scuola di formazione UEPA Science tramite Facebook, quindi tramite social, perché girava continuamente la pubblicità, quindi mi sono informata, sono andata poi nel sito a verificare le competenze, quello che mi avrebbe rilasciato il corso e soprattutto anche per verificare l'organizzazione, come si sarebbe svolto il corso, quindi poi mi sono informata e ho contattato direttamente la scuola di formazione. Ho scelto di partecipare a questo corso perché dal momento che sto già insegnando e ho fatto anche già altri corsi precedentemente, volevo ampliare le mie conoscenze e anche vedere i nuovi allenamenti comunque del funzionale. Le cose che ho notato, diverse rispetto alle altre scuole di formazione, sono sicuramente l'approccio tra docente e studente. Questo, diciamo, rapporto che si è instaurato con i docenti della UEPA, dove noi potevamo porci quasi, non dico allo stesso livello, però potevamo integrare le nostre conoscenze con quelle che loro ci stavano fornendo. C'erano delle lezioni teoriche, dove quindi andavamo proprio a ampliare le conoscenze anche dal punto di vista scientifico, però poi le mettevamo direttamente in pratica e quindi questo è stato sicuramente uno dei fattori più positivi del corso. Nonostante sia una scuola, sì che nasce comunque relativamente da poco rispetto magari ad altre scuole, è formata da docenti validissimi, tra l'altro che si confrontano in tutto il resto d'Italia. È magari anche possibile ampliare proprio le conoscenze anche da un altro punto di vista, non solo dal punto di vista appunto sportivo. Noi all'interno di questo corso non abbiamo solo imparato come diventare istruttori o istruttrici di funzionale, ma bensì abbiamo imparato anche dal punto di vista marketing, come anche rivolgerci al cliente. E quindi non è solo il corso di funzionale secondo me, ma bensì proprio tutto il percorso che abbiamo svolto durante questi due weekend. Ho frequentato questo corso di funzionale e sono rimasta soddisfatta. E consiglio a chi guarderà anche questo video i corsi della web, quindi non solo quello di funzionale, io frequenterò anche il prossimo che ci sarà da marzo in poi, saranno quattro weekend di cultura fisica per ampliare le mie conoscenze e per avere anche dei riconoscimenti per poter insegnare anche all'interno della sua pesi, quindi assolutamente lo consiglio a tutti. Ciao ragazzi, un bacione a tutti, vi saluto e vi aspetto ai prossimi corsi della web.